Ciao a tutti ragazzi, oggi prima di andare a vedere come funzionano gli occhiali DJI sparati al massimo insieme al Sector 150 e l'HDX Vista, allora voglio farvi vedere le impostazioni all'interno degli occhiali accendiamo gli occhiali, colleghiamo la batteria, spero di riuscirvi a fare vedere tutto allora colleghiamo anche un attimo il drone, sennò non riusciamo a vedere tutte le impostazioni dell'HDX Vista allora, ok, accendiamo il drone nel frattempo, ok, allora, 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 vediamo come riuscire a farvi vedere all'interno degli occhiali, così vediamo anche tutte le varie configurazioni allora sì, dovremo riuscirci, speriamo, ok, l'importante è che vediate le voci del menu allora, ok, vediamo, ok, tac, no, prima ero riuscito a farlo vedere meglio, scusate, ma purtroppo non è facilissimo allora, ok, ci siamo, teniamo fermi gli occhiali allora, entriamo nelle impostazioni con il Joypad, allora, quello che ci interessa a noi è il setting allora, le altre impostazioni, diciamo che sono abbastanza semplici però, quello che ci interessa a noi per impostare al massimo la trasmissione video è questo allora, andiamo in setting allora, andiamo in trasmissione, qua spero che si veda bene solo che muovendosi non mette a fuoco e diciamo che però, allora, ce la possiamo fare la voce che ci interessa maggiormente è transmission allora, qui in trasmissione allora, vediamo se così è meglio o peggio scusate, ma purtroppo avendo questa vediamo se qua si vede meglio ok, in transmission, ok abbiamo queste tre opzioni abbiamo low latency, è quello che dobbiamo impostare dobbiamo attivare focus mode on e bitrate 50 mbps allora, mi scuso, purtroppo si vede così però dovete sapere che in trasmissione dobbiamo avere queste tre cose low latency, focus mode on e bitrate 50 mbps ok, l'altra cosa che invece dobbiamo andare a vedere adesso torniamo indietro nel menu è la potenza dei milliwatt porca miseria, santissima, che fatica allora, in device abbiamo invece la potenza dei milliwatt clicchiamo device spostiamoci così purtroppo tocca fare così per vedere e qui abbiamo max power allora, in max power possiamo mettere 1200, 1700, 500 eccetera eccetera ovviamente il massimo è 1200 una volta fatto questo avremo impostato tutto al massimo allora, torniamo indietro altra cosa da sapere è che dovremo beccare il canale 1 per beccare il canale 1 oltre a queste impostazioni dovremo anche posizionarci su canale 1 andando su player qui potremo andare a selezionare canale 1, 2, 3, 4 e diciamo che i canali consigliati sono l'1, il 2 e il 3 allora, io mi posiziono sull'1 e in questo modo avremo il settaggio ottimale dopo aver visto questo andiamo alla prova volo e vi condivido anche qualche prima impressione sul sector 150 digitale ok ragazzi, siamo alla prova digitale con il sector allora, impostato tutto al massimo sono veramente curioso di cosa andremo a fare allora, mettiamo il digitale qua che non l'ha preso allora, tac ottimo usciamo wow ok ci dovremmo essere mamma mia che differenza ragazzi allora, così si vede da dio da dio da dio registrazione partita wow wow ci ho visto proprio la sabbiolina dei sassi allora, qui ovviamente cinematic, piano allora, oggi testiamo anche quanta durata della batteria facciamo con la GoPro Hero 7 e quanto andiamo lontano o comunque quanto vediamo bene con l'analogico sparato al massimo allora, andiamo un po' laggiù ma ragazzi l'altro giorno c'era la nebbia non si vedeva una massa oggi con la luce che è quasi quella perfetta vedo non so come dire ma i peli proprio cioè l'erba cioè vedo tutto le foglioline guardate qua le foglioline guà mamma mia con la luce oggi è fantastica guardate allora io sono laggiù dove con l'analogico col pifero che arrivavo così bene guardate adesso vi faccio un volo cinematic ma è qualcosa di fantastico allora qua ok ecco infatti allora leggermente laghettino torniamo indietro ma qui veramente ragazzi con l'analogico col cavolo che ci andate tutti gli alberi così bassi io vedo qui degradare leggermente l'immagine ma così è tanta roba mi dispiace ma è fantastico così basso dietro tutta sta roba è veramente andiamo qua dove in linea teorica ci abbiamo qualche leggera interferenza però in analogico non vediamo niente niente ragazzi qui è qualcosa di vedo vedo proprio i sassolini come come sulla gopro spero che nel dvr venga registrato bene oggi che c'è la luce perché l'altro giorno non c'era la nebbia wow che pelo che abbiamo dato allora facciamo la stessa ripresa da qui 14.7 allora siamo a quasi due minuti e comunque la batteria c'è siamo qua dietro di noi wow wow allora finalmente facciamo anche noi la ripresa autunnale fantastico allora ragazzi ecco qua questa è una cosa da dire se dovete fare delle riprese in digitale state vedendo proprio riguardando il video cioè è proprio un'altra cosa secondo me fare le riprese così in hd è qualcosa di diverso cioè nel senso in temporale vedete già quello che fate e che volete fare wow guardate qua vi faccio un orbit qua dietro l'albero lo dovete vedere perché è una roba eccezionale e spero che dal dvr si veda allora mettiamoci qua nell'albero wow non so quante volte ho detto wow ma i primi voli è per forza così perché guardate io qua vedo proprio sto ramoscelli sti ramoscelli qua non li vedete con l'analogico cioè è una roba impressionante qua giù dietro l'albero guardate guardate qua proviamo a fare qualche passaggio stretto in mezzo agli alberi così vi faccio capire quanto allora lo facciamo anche con l'analogico per carità ma qui io vedo da dio tutti tutti i ramoscelli tutti non ne perdo neanche uno wow guardate qua ok siamo a 3 minuti e 20 3 minuti e 20 in digitale con la gopro hero 7 tanta roba se ne facciamo 4 allora io ho paura sarebbe figo andare laggiù nel sottobosco cioè per carità in analogico non avrei visto nemmeno questo sottobosco allora nel sottobosco però ragazzi è meglio non andare perché nel sottobosco è veramente fitto siamo dietro di noi laterali più di così leggermente sgranato ci può stare allora continuiamo con il nostro test siamo a 3 minuti e 50 ragazzi facciamo qualche passaggino qua sotto visto che tanto qui abbiamo il dronello piccolo quindi possiamo andare piano qualche passaggino qua sotto fighissimo ok passaggino qua che di solito col 5 magari non li faccio perché andiamo un po' più forte wow guardate che roba è proprio un altro genere di ripresa ragazzi guardate passiamo qua vedo proprio il tubo qua wow 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 allora andiamo piano piano qua oh bello qua sembra tipo lift off guardate qua con la gru andiamo piano piano vedo proprio ogni singolo pezzo di ferro guardate wow wow spero di avervi trasmesso quello che vedo adesso torniamo indietro perché la batteria l'è finita ok perfetto siamo scesi abbiamo fatto quasi quasi 5 minuti in cruise adesso atterro perché se no la faccio la muore ok ok ragazzi spero che il video vi sia piaciuto allora concludo il video perché da quello che avete capito si vede veramente bene con gli occhiali DJI ormai è inutile dirlo allora colgo anche l'occasione per darvi due impressioni sul sector 150 digitale sono riuscito a fare qualche volo ancora non l'ho usato tantissimo però magari per chi si chiedesse come va allora diciamo che va come il sector 150 analogico allora la differenza è che comunque abbiamo una FC differente come potete vedere molto bella perché abbiamo una FC con esche integrati dove per fare stare l'HDX vista al centro hanno pensato appunto di fare questa FC con esche integrati quindi abbiamo una terretta più bassa e poi quindi hanno potuto inserire l'HDX vista sopra molto comoda perché rende la build veramente pulita e compatta complimenti sempre ad HGLRC perché le sue build a mio avviso sono fatte veramente bene pulite ormai le saldature ho visto che le fanno bene tutti e diciamo che potete vedere che è un'ottima build anche in volo mi sto trovando bene l'ho provata sia con la Hero 7 che senza a mio avviso vola già abbastanza bene anche se per i più esigenti sicuramente un PID tuning per aumentare il feeling col drone probabilmente potrebbe essere necessario al momento mi sento di al momento mi sento di dire che sicuramente è un ottimo drone continuano a piacermi come la versione analogica anche in questo caso la versione digitale a mio avviso è veramente buona detto questo noi ci vediamo con un prossimo video e non mi rimane che salutarvi ciao grazie a tutti